Ciao Marco, allora tutto bene, tanto tempo non ci vediamo, allora oggi sono qua a casa di Klaus con miei amici, facciamo un bel pranzo, grazie mille. Ciao Marco, ciao, come stai? Allora oggi sono qua a casa di Capo, mangiare insieme con i Capo anche Arianna, con Boba Cara, anche altri amici. Boba Cara cucinato oggi in Plaza, è un tipico cibo di africano, oggi è quello che mangiamo. Ti saluto Marco, buona festa, ciao.